Buongiorno amici di Volonvright, siamo qui oggi 19 dicembre all'inaugurazione del progetto Colorandia. Si tratta di un progetto a più colori, un progetto, un punto di riferimento per famiglie e minori della città di Torino, un progetto sostenuto dalla città di Torino, dalla divisione politica e sociali e rapporti con le aziende sanitarie. Un progetto che ospita da oggi, ospiterà diverse associazioni e enti del territorio, ricordiamo il progetto Prisma, l'associazione Ulaop, l'associazione 03, la casa dell'affidamento della città di Torino e l'associazione Disincanto. Siamo oggi in compagnia del signor sindaco Piero Fassino, a cui rivolgerei una domanda un po' generale sul volontariato. Sicuramente siamo in un momento di crisi, di difficoltà, il nostro paese e la nostra città sta attraversando come sappiamo un momento difficile, ma l'attività nella nostra città continua ad andare avanti, a evolversi e riteniamo che il volontariato sia un protagonista di questo processo. Sì, il volontariato è una risorsa straordinaria. C'è un numero sempre più grande di cittadini, di donne, di uomini, di persone che decide di dedicare una parte del proprio tempo, delle proprie competenze agli altri. Ed è quindi un atto di generosità, un atto di donazione. ed è preziosissimo perché grazie all'azione di volontariato si possono realizzare progetti di accompagnamento, di assistenza, di cura, di educazione, di tutela, di formazione a seconda dell'oggetto dell'azione di volontariato. E questo consente a tante persone che sono in una condizione di difficoltà, penso a persone portatori di disabilità, oppure a persone anziane sole, o a famiglie in condizioni di povertà, o a giovani che vivono una condizione di precarietà, di non essere soli nelle loro difficoltà, e anzi di essere sostenuti, accompagnati e aiutati a trovare soluzioni ai loro problemi. Quindi io penso che si debba esprimere un sentimento di grande gratitudine verso chi offre una parte del proprio tempo, della propria intelligenza, delle proprie energie agli altri. L'esperienza del volontariato a Torino è larghissima, sono migliaia e migliaia i volontari che in tantissimi settori operano. È un patrimonio prezioso che noi dobbiamo valorizzare e a cui dare tutto il riconoscimento che è necessario. Ecco, in effetti sappiamo anche che qui a Torino è presente il volto, il centro per il volontariato. Diceva, un'ultima domanda, come può essere sostenuto il volontariato dall'ente pubblico, dall'istituzione? Beh, già li sosteniamo, nel senso che molti dei servizi sociali che vengono erogati e delle attività che vengono erogati dal nostro assessorato ai servizi sociali attraverso il volontariato avviene con forme di convenzione, con forme di finanziamento, con forme di collaborazione di vario tipo e diciamo che le tante associazioni di volontariato, che davvero sono molte, che operano nella nostra città, sanno che nell'amministrazione comunale possono avere e hanno un interlocutore, un partner e un punto di riferimento e di sostegno per la loro attività. Perché dalla cooperazione stretta tra l'istituzione pubblica e il volontariato non può che derivare maggior bene per tanti cittadini. Allora, noi la ringraziamo molto, il nostro augurio è che questa collaborazione tra pubblico e volontariato, tra settore pubblico e volontariato, prosegua in maniera proficua. Sicuramente questo spazio inaugurato oggi è una prova che questo è possibile e realizzabile. Sì, e voglio cogliere questa occasione, visto che siamo sotto festività natalizie, per rivolgere i migliori auguri di buon Natale e di buon anno a tutti coloro che ci stanno ascoltando o ci ascolteranno. E ancora una volta ringraziare tutti coloro che con la loro azione volontaria rendono migliore la vita di questa città. Grazie a lei per il suo tempo e ciao a tutti! Grazie a tutti!